Salve a tutti da Mario Santagati per i video problemi di Chesslogger. In questo video problema muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si giocò a Breslau nel 1865 tra Johannes Zuckertort e Adolf Andersen. Bene, adesso vi lascio alla risoluzione del video problema e ci vediamo al prossimo video problema dei video problemi di Chesslogger. Ciao e alla prossima!